Benvenuti, siamo con il professor Dario Ianes, docente ordinario di pedagogia e didattica dell'inclusione all'Università di Pozzano, corso di laurea in scienze della formazione primaria, cofondatore del centro studi Ericsson di Trento, per il quale cura alcune collane, autore e direttore della revista DITA. Benvenuto professore. Benvenuti a voi, grazie. Professore, il 26 marzo di quest'anno è venuta a mancare una figura molto importante per la pedagogia, in particolare per la pedagogia speciale, che è Andrea Canemaro, del quale lei ha avuto una forte amicizia, avete collaborato tanto in questo periodo. Andrea Canemaro è considerato il padre della pedagogia speciale in Italia, che ha contribuito a sviluppare e a diffondere il nostro paese. Ci racconta un attimo chi era Andrea Canemaro. Allora, beh, intanto era una persona di una coerenza estrema. La cosa che mi ha colpito sempre, fin dall'inizio, quando l'ho conosciuto, adesso non ricordo quando, ma sono sicuramente tanti anni, mi ha colpito la coerenza, cioè rispetto alle sue idee, alle sue teorie, al suo credo pedagogico. C'era una corrispondenza così forte, così stretta, così totale, anche con la sua dimensione personale, cioè la sua disponibilità al colloquio, all'incontro con tutti, con i volontari, con gli studenti, le studentesse, con i colleghi, i docenti, con le famiglie. Ecco, era incredibile la sua disponibilità, la sua coerenza, predicare l'inclusione e poi farla concretamente nella vita quotidiana. Questa è stata la sua cifra fondamentale come persone. Infatti, credo che la stima e il credito di cui gode, di cui ha goduto e di cui gode ancora, viene anche in buona parte da questo, da questa coerenza così forte. Ecco, diciamo che noi come Orizzonte Scuola, l'ultima volta che abbiamo sentito il professor Canemaro è stato il 9 marzo, quando lo abbiamo intervistato per un libro che avete curato insieme, che era, diciamo, un'altra didattica possibile. Ecco, ci racconta, ecco, com'era lavorare con il professor Canemaro e quali erano gli obiettivi che vi perliziavate? Beh, allora lavorare con lui era, come dire, molto interessante perché ti lasciava una grandissima autonomia, per cui potevi, come dire, seguire un tuo pensiero, una tua strada da un lato e valorizzava molto questa autonomia. Cioè, non era il professore che poteva farlo, ovviamente, per la sua cultura, la sua esperienza, che ti bacchetta, che ti limita, che ti riprovera. Era quello che incoraggiava. Gli incontri con lui erano sempre interessanti perché lui ti lanciava sempre la palla un po' più avanti, un po' più avanti, vedeva sempre qualcosa di oltre rispetto a quello che riuscivo a vedere io, per cui era sempre questo stimolo, diciamo, a guardare sempre un po' oltre. Infatti, il lavoro che lui ci ha consegnato come Ericsson, proprio come ultimo, il suo libro, a cui stiamo lavorando per pubblicarlo poi nel 23, è titolato proprio Andiamo Oltre, cioè avere sempre questo sguardo. Poi con lui era molto stimolante lavorare perché lui innanzitutto coinvolgeva un sacco di persone, cioè era un coinvolgitore nato, nel senso che riusciva a trovare persone, esperti, autori, e poi aveva questa curiosità terribile anche rispetto ad altre discipline, non solo la pedagogia speciale, ma lui spaziava l'antropologia, la medicina, l'economia, la sociologia, il diritto. Cioè era un curioso proprio eccezionale. Lui si definiva proprio un bricolore, cioè quello che fa il bricolage culturale, scientifico, la cifra del suo lavoro, della sua filosofia proprio culturale e della sua epistemologia. Era proprio incredibile. Per cui l'interdisciplinarietà era sempre così, cioè non smetteva mai di sorprendermi. Ogni volta mi sono detto, porca miseria, da dove la tiri fuori sta cosa qua? La tirava fuori da come una visione così a 360 gradi, così curiosa, così eccentrica, rispetto a un sapere magari più stretto, più accademico, più monotono anche. Lui era tutto forché monotono. Era sempre molto stimolante. Ecco, lei ha detto che questo nuovo libro che uscirà, andiamo oltre, di fatto è il lascito testamentale, il testamento spirituale di Canemaro. Lei, quando avete ricordato con Ericsson la figura di Canemaro, ha detto proprio che è un lascito spirituale, il testamento spirituale di Canemaro. Ecco, quanto è importante che anche le altre persone continuino a seguire i suoi insegnamenti? Beh, mi viene molto facile dire che è importante e sarà sempre più importante, perché le vicende che stiamo affrontando sono sempre più complesse, per cui non si può, pensiamo dalla pandemia, i conflitti, eccetera, le crisi economiche, sono sempre più complesse, per cui non puoi pensare di risolverle in maniera semplicistica, o in maniera sloganistica, o in maniera comunque unidisciplinare. Devi sempre vedere le cose in maniera molto più articolata, molto più intrecciata, eccetera. Questo insegnamento di Andrea ci stimola sempre a dire noi dobbiamo di fronte alle situazioni complesse avere un pensiero complesso che non semplifica, ma che articola, per cui usa, il contributo di altri. Non dobbiamo essere tirchi avari nel condividere le nostre conoscenze con altre discipline. Ecco, lui era tutto forché tirchio, era estremamente generoso nel dare le proprie conoscenze ad altre discipline, a mescolare, a rimescolare, a tenere insieme, in un tessuto multicolore che era veramente da questo punto. Per cui è un insegnamento anche per i giovani che si affacciano alla ricerca in ambito pedagogico, a non chiudersi in un recinto iper specialistico, ma proprio avere una visione di più possibile ampia che faccia contaminare le diverse conoscenze, raccogliendo pezzi di qua e di là e costruendo qualcosa di mescolato, di multicolore. Ecco, questo credo che sia uno dei più grandi insegnamenti che lui ci ha lasciato. Ecco, lei una volta ha detto che lei e Canemaro venivate da due percorsi diversi, lui era più pedagogista, eppure aveva della stessa visione. Beh, io venivo dalla psicologia, per cui la mia formazione è quella in ambito psicologico, lui invece veniva dalla pedagogia istituzionale, per cui da un ambito diverso. Però la sua apertura, la sua apertura nei confronti anche di chi aveva una formazione, un percorso anche professionale differente, si è dimostrata subito, quando lui mi ha detto, guarda, bisogna fare delle cose insieme, dobbiamo costruire insieme qualcosa nell'ambito della pedagogia speciale, che è quella che più è vicina anche all'apporto che può dare la psicologia dell'apprendimento, ai temi della disabilità, piuttosto che della marginalità, dello svantaggio, del disturbo dell'apprendimento. Per cui ci siamo trovati molto sintonici, fin da subito. Ecco, io non ricordo esattamente il giorno, il giorno in cui ci siamo incontrati, o come ci siamo incontrati, però abbiamo fatto dei bei pezzi di strada insieme. Un aspetto di Canelaro che mi ha colpito è quando durante un convegno lui ha paragonato l'insegnante a Magillano, un navigatore che esplorava nuove rotte, ma che dava sempre sicurezza al proprio privaggio, facendo credere, ad esempio, che la baia scoperta era quella prevista dal piano rotta. Per un insegnante, quanto è importante esplorare e non avere paura di quello a cui va incontro? Ma non c'è dubbio che questa è una caratteristica di un leader, un insegnante è un leader, di fatto, uno che ha una visione, che cerca di portare, di tracciare una rotta e andare in una direzione. Del leader, tra le tante caratteristiche del leader, è anche quella, diciamo, di infondere sicurezza, infondere sicurezza e forza al suo equipaggio. Anche magari, in alcuni casi, come lei diceva, forzando un pochettino la realtà, in modo che ci sia questa sicurezza che poi è questa forza che ci fa scoprire nuove pezzi di terreno, nuove pezzi di costa o di mare, insomma, per cui sicuramente Andrea esercitava, senza teorizzarlo, ma con la sua vita, con le sue cose innumerevoli che continuava a fare, anche avanti con l'età, esercitava proprio questa leadership, questa leadership che ci dava rotta sicurezza e voglia di navigare un po' insieme con lui, come fanno moltissimi insegnanti nella scuola. La figura del docente a cui teneva molto Canemaro era quello dell'artigiano esperto nel tricolage, di unire questo nuovo con il vecchio. Come si riesce a fare questo aspetto che Canemaro ci raccontava? Beh, con tanta curiosità, con tanta curiosità perché un insegnante è un intellettuale, è un intellettuale che crea cultura, crea il nuovo dal vecchio, sicuramente, innestandoci le cose che incontra. Un insegnante è un intellettuale che incontra un sacco di stimoli perché legge libri, va ai convegni, fa formazione, legge riviste, per cui entra a contatto con tanto nuovo che assembla, che poi costruisce in una maniera originale. Non è l'esecutore passivo di un approccio, di un metodo, ma è un costruttore attivo con la propria esperienza, con gli incontri che fa, con il proprio background e con la propria motivazione di costruire qualcosa di nuovo. Alle studentesse e agli studenti in università io ripeto sempre voi che saranno i futuri insegnanti di primaria e infanzia voi siete degli intellettuali, siete degli intellettuali che costruite conoscenza, costruite cultura, ma non solo nei bambini e nelle bambine, ma anche nelle famiglie, dei vostri colleghi, della società che ci circonda. Per cui questo orgoglio, questa forza dell'essere costruttori e diffusori di conoscenza, questo Andrea l'ha sempre detto e ha sempre insistito proprio perché l'insegnante sia quello che rende competenti altri contesti di vita. Grazie per l'ustodiano e per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.